L'azzeramento di un decreto ingiuntivo e il riconoscimento della pensione di reversibilità a beneficio di una minore. Questi casi su cui hanno deliberato il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e quello di Patti. Nel primo caso il giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Salvatore Sindoni, ha accolto l'eccezione prospettata dall'avvocato Natale Bonfiglio che rappresentava il Comune di Milazzo, revocando un decreto ingiuntivo di 50 mila euro. In questa vicenda sono stati contrapposti il Comune di Milazzo e Banca Sistema, rappresentata dall'avvocato Caterina Detilla. Banca Sistema si è costituita in giudizio quale cessionaria del credito di Eracom di 50 mila euro relativa ad una fornitura di energie elettriche in regime di salvaguardia. Ma, è scritto in sentenza, manca il contratto di cessione del credito e per il resto anche il contratto in forma scritta di fornitura di energia elettrica. Da qui il giudice ha accolto l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva prospettata dall'avvocato Bonfiglio e dunque è stato revocato il decreto ingiuntivo a carico del Comune di Milazzo con condanna alle spese a carico di Banca Sistema. Al Tribunale di Patti il giudice del lavoro Giovanni Piccolo ha riconosciuto ad una minore il diritto a ricevere la pensione di reversibilità della nonna materna con cui la ragazza aveva vissuto ed era stata mantenuta da lei fino alla morte. È una delle prime sentenze disposte dal Tribunale di Patti sull'argomento per il riconoscimento che in linea generale viene garantito a favore del coniuge e dei figli. In questa controversia sono state contrapposte la minore rappresentata dall'avvocato Michele Mondello e l'Inps rappresentata dall'avvocato Oliviero Azzeni. Con ricorso del 3 aprile 2019 la minore ha evidenziato di aver vissuto fin dalla sua nascita con la nonna fino alla morte di quest'ultima che provvedeva al mantenimento della minore. Quest'ultima è riuscita a dimostrare la sussistenza dell'equisito della vivenza a carico e che oltretutto non godesse di autosufficienza economica. Per tutti questi motivi la minora ha ottenuto il riconoscimento a ricevere la pensione di reversibilità della nonna materna. L'Inps, che è stata condannata anche a pagare le spese del giudizio, dovrà ora pagare gli arretrati della pensione.